Ecco, adesso tenete qui bello, bravo, perché io adesso prego una siringa e faccio un esperimento, perché è un farmaco che devo provare su di me, però potrebbe essere mortale, e allora lo provo prima su di te, così magari se ci rimani secco poi io mi salvo. Ecco, no, non sono un mostro, ovviamente, anche perché io adoro il mio cane, ma quello che sto dicendo è esattamente quello che sta avvenendo a 20 cuccioli di beagle di 4 mesi, tenuti rinchiusi dalla ditta farmaceutica aptuite di Verona per degli esperimenti. Siamo ancora alla sperimentazione sugli animali, per i farmaci? Dico, ma siamo matti? Allora, per favore, il 16 di ottobre venite tutti in corteo a Verona per salvare questi 20 cuccioli, che sono poi i tuoi amici. Dico, ma siamo matti? Allora, per favore, il 16 di ottobre venite tutti in corteo a Verona